Ciao, mi chiamo Cristina, 62 anni, di Bergamo. Ho sentito parlare di dottor Palmas, che è un medico sardo che ha aperto due policlinici in Moldavia e in Romania. Allora iniziai ad approfondire un po' il suo percorso formativo. Mi diede fiducia e decisi di mettermi in contatto con il vostro policlinico. La documentazione arrivò chiaramente in mani esperte, che erano quelle del dottor Palmas, e io rimasi sorpresa, esterefatta e basita, perché nel giro di una settimana lui mi rispose. Quindi avevo molta fiducia nel chirurgo che mi stava operando, perché comunque ho visto come mi aveva seguito togliendomi arcata superiore e arcata inferiore e avendomi messo inizialmente sei impianti sotto, perché io ne ho otto. Quindi sono andata con molta tranquillità. Molta tranquillità perché ero seguita da un team multidisciplinare, secondo me, eccezionale, sia come assistenti alla poltrona, come manager e chiaramente il chirurgo maxilofacciale, che fa comunque la differenza. Forse non ho detto, ma magari me lo dirai tu dopo. Io ho fatto un intervento dove, non avendo osseo, ho dovuto mettere una gabbia, quindi con degli impianti ptegoridei, quindi l'intervento è di una certa complessità. Sì, le mie aspettative sono state soddisfatte, anche perché io svolgo un lavoro dove nel quotidiano sono a contatto comunque con i pazienti. E per me l'estetica è fondamentale, chiaramente oltre all'aspetto della salute, perché io con i denti che mi ballavano continuamente non mangiavo più. Però il fatto di avere comunque un aspetto e un sorriso verso i miei pazienti mi dava fiducia. E quindi è stato per me un percorso che ha soddisfatto veramente i miei bisogni fisici e psichici.